Nel 1945 gli alleati decidono che l'unica cosa che mancherà all'Italia sarà un'assoluta libertà politica, perché non avendo stima per il popolo italiano non ritengono che possa gestirla e quindi decidono che saranno loro a controllarla. Dai documenti dessecretati oggi noi sappiamo che questo tipo di controllo avveniva in più modi, attraverso il ricatto, attraverso il scegliere delle persone che potessero essere facilmente condizionabili perché magari avevano delle debolezze evidenti da poter mettere ai punti, ai vertici delle istituzioni del paese e se questo non era sufficiente nel causare una cronica debolezza dei governi non disdegnando in caso di necessità di minacciare dei colpi di Stato e di compiere atti di terrorismo e stragi e questo è chiaramente detto nei documenti oggi consultabili dei servizi segreti americani dove il terrorismo viene definito fattore interno stabilizzante. Quindi di fatto non esiste un vero e proprio terrorismo come oggi vediamo quel terrorismo presunto islamico, un po' forse è la stessa cosa. Ma per quanto riguarda il terrorismo italiano noi abbiamo come accennavo prima fior fior di terroristi che poi si scopre dai documenti ma anche da questa sentenza i cui autori ad esempio mi riferisco a Freda Ventura che poi sono stati riconosciuti come autori della strage di Piazza Fontana che erano fiduciari dai servizi segreti non solo ma che quando a Catanzaro si svolgeva il processo nei loro confronti i servizi segreti gli fornirono passaporti falsi per scappare all'estero. I servizi segreti utilizzavano dei movimenti nati, li infiltravano, utilizzavano le persone all'interno dei movimenti per fargli compiere quegli atti, violenti o non violenti, più spesso violenti, che ritenevano necessari in quel momento per l'obiettivo che si erano prefessato. Noi la strategia della tensione è stato un periodo per il nostro paese anche solo prendendo in esame dal 69 al 74, pensiamo che ci sono stati 4.000 tra assalti e attentati politici e 6 stragi, solo prendendo quell'arco di 5 anni, poi molti non l'hanno vissuto, molti non hanno un ricordo diverso forse oppure non lo ricordano quasi, ma insomma a vederlo nel suo complesso è stato un periodo terribile, ma se prendiamo poi dal 45 a oggi le stragi nel nostro paese sono state 13, perché poi in realtà il sistema visto che funzionava se all'inizio si è detto applichiamo questa strategia della tensione perché l'obiettivo è non far vincere i comunisti, caduto il muro di Merlino si è attuata la stessa identica strategia della tensione anche se i comunisti non c'erano più, quindi si torna a quello che dicevo prima, visto che il meccanismo funziona, cambio l'obiettivo ma uso sempre lo stesso meccanismo, noi abbiamo avuto tra il 92 e il 93 altre stragi, altri omicidi e un colpo di Stato che è stato denunciato dallo stesso Carlo Azzeglio Ciampi che era all'epoca Presidente della Repubblica e ha scritto e ha riusciato a interviste denunciando che il 27 luglio 1993 lui ha temuto il colpo di Stato e dice io lo credo ancora adesso che ci sia stato un tentativo di colpo di Stato quella notte, poi in realtà il colpo di Stato c'è stato e però ancora oggi di questo non se ne può parlare, tipico della nostra Repubblica magari se ne parlerà fra altri 20 o 30 anni, però l'ultimo colpo di Stato violento noi lo abbiamo avuto nel 92-93 con lo stesso identico meccanismo dei decenni precedenti perché? Perché il meccanismo funziona ci chiede Alessandro che aveva scritto qualche minuto fa ma in realtà poi ci sei entrata tu chiedeva appunto quale golpe ci doveva essere negli anni 90, penso che è quello di cui stai parlando. Scusa è andato via un attimo alla voce. Ci chiedeva Alessandro pochi minuti fa prima che tu aprissi questo argomento quale golpe ci doveva essere negli anni 90, probabilmente quello di cui stavi parlando adesso. C'è stato, c'è stato. C'è stato. C'è stato il colpo di Stato non solo ma c'è stato una persona che sicuramente a livello italiano è sempre stato all'interno del centro del potere, un personaggio come Andreotti che quando inizia a paventarsi questo possibile colpo di Stato, lui lo denuncia apertamente. Lui quando, ricordiamo che quando parte l'attacco all'Italia, che è un attacco strutturato in più punti, una delle persone, una delle prime persone che vengono attaccate è Giulio Andreotti. Giulio Andreotti come viene attaccato? È il più papabile all'elezione al Presidente della Repubblica, rientra dall'America Buscetta, che era già stato in Italia, da cui era poi scaturito il maxiprocesso ma non aveva parlato di politici, rientra apposta dall'America in Italia Buscetta e inizia a delineare le responsabilità di Andreotti nell'ambito dei suoi rapporti con la mafia. Quando Andreotti subisce questo attacco, lui scrive sull'Europeo un articolo in cui il titolo è «Vogliono far fuori me o il sistema?» e scrive in maniera criptica, come era solito fare lui, dice «È difficile capire se dietro le accuse che mi vengono rivolte ci sia un disegno destabilizzante o solo il desiderio di togliermi di mezzo». Certo, l'abile campagna denigratoria partita dagli USA deve far riflettere. Andreotti che di quel sistema di potere aveva fatto parte sin dall'inizio, nel momento in cui un personaggio come Buscetta, che oggi sappiamo, grazie a un documento trovato da una giornalista britannica che dal 1966 era un collaboratore della CIA, capisce immediatamente che c'è un attacco violento e capisce anche con estrema chiarezza che l'attacco non è solo a lui, all'intero sistema, infatti in quel 92-93 la prima repubblica viene fatta sparire.